La giornata nazionale del mare ha avuto in provincia di Messina come località base il porto turistico di San Gregorio di Capodorlando. L'invaso di Magnoli è stato per il secondo anno consecutivo teatro dell'avvenimento, coinvolgendo molti studenti delle scuole primarie paladine. Come ormai noto, il Codice della Nautica da Di Porto ha riconosciuto il giorno 11 aprile di ogni anno quale giornata del mare, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, al fine di sviluppare la cultura del mare inteso come risorsa di grande valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Protagonisti indiscussi della giornata sono stati gli alunni della quarta elementare del comprensivo 1 di Via Roma di Capodorlando, che hanno recepito con grande maturità lo slogan Io sto con il mare, titolo del dibattito in cui sono intervenuti la dottoressa Michela D'Alessandro e il professor Franco Andaloro in rappresentanza del WWF, il dottor Pietro Forte della NAPI Spesca Sicilia e il tenente di vascello Michele Rossano, comandante dell'ufficio circondariale di Sant'Agata. Interventi preceduti dai saluti iniziali del direttore del porto Enza Di Raimondo e dal primo maresciallo dell'ufficio locale marittimo orlandino Fabio Sarni. Al termine dell'incontro gli alunni delle due classi si sono cimentati in un laboratorio sull'arte e del riciclo, a cura dell'associazione Homo Faber, e infine sono stati intrattenuti da una divertente caccia al tesoro organizzata dallo staff del Marina. Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo Rinaldo Anastasi per la bontà dell'iniziativa e il coinvolgimento della scuola in attività finalizzate alla sensibilizzazione su temi, come quello dell'inquinamento ambientale, di grande attualità e notevole impatto nella vita di tutti i giorni.